Un furto quanto mai anomalo quello subito dall'Istituto Fermi Giorgi domenica mattina. Un individuo vestito da ciclista si è introdotto all'interno del cortile della scuola a bordo di una bicicletta. Una volta sotto l'atrio, ha parcheggiato il mezzo e si è diretto verso uno dei pennoni di sostegno delle bandiere poste all'esterno dell'Istituto. Dopo aver controllato che all'interno della scuola non ci fosse nessuno, ha estratto quello che a prima vista può sembrare un coltello ed ha tagliato la corda che sosteneva la bandiera degli Stati Uniti, portandola via. Dopodiché è rimontato in sella alla bicicletta e se n'è andato. Il tutto sotto l'occhio della telecamera di videosorveglianza che ha immortalato l'intera scena. Accortisi del furto, i dirigenti della scuola hanno immediatamente esporto denuncia e consegnato il materiale video agli inquirenti che stanno cercando di risalire all'adrociclista. Sì, un furto abbastanza anomalo, piuttosto anche curioso perché si è introdotto questo ladro di bandiere ed è andato diretto a rubarne una in particolare. Quello che ci ha stupito appunto è che ha rubato la bandiera degli Stati Uniti d'America che è anche quella più vicina all'edificio scolastico, quindi se dentro ci fosse stato qualcuno sarebbe stato visto. In effetti, come si vedrà dalle immagini realizzate grazie all'utilizzo delle videocamere già la questura si sta muovendo e ci sono molti indizi che porteranno anche a riconoscimento di questa persona.